uomini e donne torna in onda dopo più di una settimana di stop e si riparte da dove si era conclusa la puntata di giovedì 23 marzo dunque quello in onda oggi è un appuntamento che è stato registrato ancora prima della morte di maurizio costanzo come è stato scritto prima della messa in onda si parte dunque con federico nicotera al centro studio con carola carpanelli e alice barisciani la bionda corteggiatrice si ritrova ancora a giustificare il suo comportamento parlando con gianni sperti quest'ultimo sembra apprezzare di più il percorso portato avanti da alice tanto che più volte dimostra di non essere così sicuro dell'interesse che carola dice di provare nei confronti di federico in particolare tali sospetti sono aumentati nell'opinionista quando la carpanelli si è detta pronta a lasciare il programma prima della scelta la bionda corteggiatrice molto amata dal pubblico è tornata in studio e prima ancora scritto per nicotera una lettera gianni oggi continua a mostrarsi dubbioso a ue di carola spiega i motivi delle sue ultime scelte e gianni ammette di essersi fatto un'idea non vuole però rivelare il suo pensiero in quanto sa che a breve federico farà la sua scelta consapevole che sarà fatta con il cuore maria però invita l'opinionista a parlare e svelare comunque ciò che pensa ed ecco che sperti palesa il suo pensiero nel dettaglio a insospettirlo è la razionalità usata da carola prima di zittire tutti per difendere i sentimenti della carpanelli qui mary spiega il suo punto di vista non ho capito mi sembrano discorsi diversi adesso io non so se lei si senta la scelta però io capisco che se fosse così lei non si senta di dirlo ci sta ci sono due cose per cui non lo dice uno perché magari se non è la scelta fa una brutta figura due a fianco un'altra persona lei dice faccio così per difesa faccio fatica a stare in competizione con un'altra ho delle priorità che ho messo da parte per lui quando ti tratto male è perché così ti allontani che si senta la scelta è